Bella a tutti rega Oggi faremo un altro gameplay di Amnesia e di Dark Descente Un'altra mod Di Twinks, Minx e Cx1 Dai Facciamo questa mod E oggi sono proprio di buon umore per fare un bel gameplay Vediamo se almeno ce la posso fare Ecco Ok Eh Sacca di con... con... 50 telleri Laudo, laudo C'è porchi Porchi Oio Allora Che? Oio 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 I Uo Biom Giacciallini Guarda, guarda, guarda 1, 2 C'è bello Gira la ruota la cazzo l'ha cagato mezzo al buchino l'ha cagato ok in terra andiamo a conto ce l'abbiamo tutta piena ok ce l'abbiamo tutta piena ehi che c'è qua non so cosa serve ok ok dai vieni 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 dai dai ciao no che cazzo ma sei vero è vero no no che cazzo ma perchè sei vero oi oi che cazzo non c'è più via via scappa scappa aspetta bello madonna allora in quella grande contene gozilla mi so ok no porchi formato piccolo no eau 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 no bisellino pss ee eeeh di qua non ci entro qui 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 mhm mhm allora questo no no 1 no 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 sta sfondo la porta no il suo il suo no 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 come un modo freddo come come ho fatto mi spiega per i tempi era finto allora no mi devo portare la sedia con me come arma di difesa via 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 conteniamo ovviamente se carica ah ok allora qui la miniera dorce poi qua 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 ok ok no c'è la merda qua oh voglio ok dai come un modo facca tanto lo so che si è finta dai vieni vieni oh cazzo scappa 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 vai 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 capo mica non voglio più provocare sti bestia anima cercherò di scappare il mostro non ci dovrebbe essere più via posto ok ok questo che cazzo oi che cosa a me a me a me a ma questo non esce ehi oh via o o oro cazzo di cuore a merda uh l'acido l'acido vieni vieni qua acid via allora vediamo cosa c'è qui sopra qui niente 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 qui oh la sella grazie stefano ok prison k mi sa che ci sono anche dei prigioni qua boh ok andiamo avanti bello qui no tu non mi fotti ma mia fotti dai no tu non mi trovi dentro l'armadio dai no 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 aspetta tagli contusioni vabbè dai allora l'acido servirà questo qui c'è sempre porchi qui pronto a essere mangiato ora mi seguirai porchi 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 qui allora ok 1 fatta e due la chiave si continua sperando sperando che non trovi la prigione dai ok no noi nevi vedi mei mei stiamo cadendo mei 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 pezzo mei mei bello 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 . . allora prima porta . . . no quante pozioni ci sono . . poi kamuka . . . su questo mondo continuiamo allora questo niente chiuso che cazzo qui non c'erano scappa scappa boh io me ne vado allora se voglio ovviamente questo video avanti sarà chiuso figurati allora prendiamo il pugnalino qua oh bravi c'è c'è rinno c'è rinno 29 oi la prendi via vai scappa 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 via via prendo la roccia non si sa mai allora qui chiuso dobbiamo aprire questa porta qua apriti sedo niente abbiamo aperto le piramidi che ve li ricordi che ve li ricordi la piramide poverino va bene mo' e' scomporso su po' no mo' mo' su cazzo 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 cos'è roccia viene con me mhm mhm per me Come cazzo faccio ad aprirla? Oh merda Allora, qui sotto Niente Niente Manco qui niente L'olio sta finendo Ok Niente, niente Ok Poi Prima di controllare non si sa mai Ok E questo? Ehi Si prende Oddio Niente Guardi Niente Niente Succede niente Niente di niente Vabbè Tegliamo un attimo la parte